Onore trovato un colpo da mortaio in Valle di Tede sul posto carabinieri e artificieri dell'esercito. Pontenossa viabilità da ripensare lungo la provinciale secondo il giornalista Luigi Furgia che rilancia l'opzione rotatoria all'imbocco dalla Valle del Riso anche per Premolo e Pontenossa. L'Overa è un solo Open Day per più percorsi il prossimo 24 novembre con il campus delle scuole superiori del territorio. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Un pezzo di metallo che affiorava dalla ghiaia così Stefano Gusmini, titolare dell'agriturismo Fattoria della Felicità di Onore, questa mattina ha notato un colpo da mortaio in una valletta in Valle di Tede. Stefano Gusmini in una valletta vicino al suo agriturismo qui in Valle di Tede è stato rinvenuto un ordigno. Sì, stamattina ho notato una sporgenza da un pezzo di metallo che usciva dalla ghiaia, un pezzo dove tendenzialmente tende un po' a franare e così incuriosito nel cercare di capire cos'è ho scavato leggermente intorno e dietro questo pezzo di ferro che era proprio la coda di una bomba da mortaio e quindi ho chiamato i carabinieri, sono intervenuti e stiamo aspettando gli artificieri per bonificare la cosa. E come era notata? Notata passando a fianco alla strada proprio del mio agriturismo, i cani si sono soffermati vicino a questa sporgenza, allora mi sono incuriosito e magari spesso qui nei dintorni affiorano vari reperti sotterrati dalla ghiaia che possono essere cose di vario tipo, mentre questa qui era proprio effettivamente una bomba. Dovrebbe essere un colpo da mortaio? Sì, vedendo un po' così sembra proprio un mortaio calibro 81 perché come mi raccontano gli anziani del paese in queste zone venivano proprio a sparare l'esercito, portava dei mortai dalla Valle dei Dadi fino al Monte Varro proprio per esercitazioni fino a una ventina, trentina di anni fa. Ecco questa è una zona dove comunque bisogna prestare attenzione. Sì, diciamo che per una serie di anni l'esercito ha occupato queste zone per le proprie esercitazioni, quindi bombe e colpi da mortaio sono comunque distribuiti nella zona del Monte Varro. Non sembrerebbe che siano ordini pericolosi che possano esplodere così facilmente, ma sicuramente tanti di questi reperti contengono ancora dell'esplosivo che al tempo si usava proprio il tritolo, per cui 300-400 grammi di tritolo potrebbero essere contenuti all'interno di questa bomba, per cui non è il caso di magari di spostarle, muoverle, ma come abbiamo fatto noi, chiamate i carabinieri se vi capita di trovarli. E nella tarda mattinata l'ordigno è stato fatto brillare dagli artificieri dell'esercito. E restiamo in zona, ladri in azione a Songavazzo, sentiamo Vladimir Lazzarini. Un furto è stato messo a segno l'altra notte in località Porcherola a Songavazzo ai danni della ditta ST Materiali Edili di Savoldelli Tranquillo. Ad agire è stata una banda di malviventi arrivata sul posto a bordo di due auto. Sono stati portati via varie attrezzature e utensili utilizzati nel campo dell'edilizia che i ladri hanno caricato a bordo di due furgoni della stessa ditta. Si sono anche introdotti negli uffici dell'azienda mettendoli a soccuadro, con la chiara intenzione di provocare danni. Si sono poi allontanati con le due auto e i furgoni carichi di merce, dirigendosi verso l'overe. Il loro passaggio è stato rilevato dalle telecamere installate lungo le strade della zona. Dai primi accertamenti è emerso che la targa di una delle auto utilizzate dai malviventi era già stata rilevata nei giorni scorsi in alcune occasioni dal sistema di videosorveglianza. Probabilmente i ladri avevano compiuto dei sopralluoghi nella zona per individuare l'obiettivo da colpire. Nei giorni scorsi Luigi Furia di Gorno ha scritto una lettera al presidente della regione Lombardia Roberto Maroni, all'assessore all'infrastrature di regione Lombardia Alessandro Sorte, al presidente della provincia di Bergamo Matteo Rossi, al presidente della comunità montana della valle seriana Danilo Cominelli e per conoscenza ai sindaci dell'alta valle seriana per richiamare attenzione sulla viabilità tra Colzate e Ponte Nossa. Luigi Furia, come cittadino ha voluto scrivere una lettera in questi giorni con cui tornare a indicare la necessità di una rotatoria per l'imbocco dalla valle del riso? No, più che cittadino come giornalista, nel senso che sono stato sollecitato da parecchie persone per fare in modo che chi di dovere analizzi tutto il problema complessivamente, cioè il tratto in pratica dal ponte di riso e ponte di selva. Lì bisogna studiare bene il problema perché probabilmente può darsi che sia più utile una grande rotonda a valle del abitato di Ponte Nossa dove si può servire Premolo, Ponte Nossa Alta, tutta la Val del riso eccetera e anche il centro commerciale e inoltre se domani verrà fatto il ponte si può andare di là dal Sirio di modo che può essere anche diviso il traffico che va verso Clusone, l'alto piano di Clusone e l'alto che va verso l'alta valle serriana perché se teniamo presente in modo particolare nella stagione estiva quando sono aperti gli impianti, non so da Clusone arrivare a Nossa ci si impiega un'ora, idem per quelli che scendono da Val Bondione, quella zona lì perché lì Ponte Selva è proprio un incrocio bestiale insomma che comunque va risolto. Poi bisognerà verificare anche il tratto che da Ponte di Colzate arriva su appunto a Ponte Nossa, cioè lì bisogna trovare una soluzione, una parte potrebbe essere anche risolta facilmente in quanto nella parte verso diciamo così, verso la sommet eccetera c'era già una strada, il Lotempore che è la strada vecchia, la strada ancora prima che venisse fatto il Ponte del Costone alla strada era in quella qualità lì, è questione di sistemarla un po' e di togliere i divieti che ci sono adesso, di modo che se capita qualcosa sulla strada provinciale principale il traffico può essere veicolato verso l'alta strada. Idem da Ponte Costone a Ponte Nossa bisognerà trovare una soluzione perché noi siamo lì proprio sotto il Frol, se viene giù solo un sasso si blocca tutta la valle anche lì, quando succede qualcosa si sta fermi due o tre ore, è capitato anche a me non solo una volta di star fermo due ore lì. E per gli studenti di Terza Media si avvicina il tempo della scelta, venerdì 24 novembre è in programma un'occasione con cui scoprire l'offerta formativa dell'Ivan Piana, del Convitto Nazionale e delle Deci Celeri di Lovere. Venerdì 24 novembre il polo scolastico loverese organizza anche quest'anno il campus delle scuole superiori del territorio, un servizio alle famiglie per presentare l'offerta formativa di tutto il territorio loverese e dei dintorni. La sede è appunto il Convitto Nazionale Cesare Battisti di Lovere, l'appuntamento è per venerdì 24 novembre alle 18.30. È un servizio che viene confermato anche quest'anno. Verranno presentate le scuole loveresi, il polo scolastico loverese è un polo scolastico storico, tre sono gli istituti delle scuole superiori di Lovere e però saranno ospitati anche gli istituti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la zona dell'Alto Sebino e della bassa valle Camonica. Ciò che viene proposto durante la serata è particolarmente importante per le famiglie perché è un'occasione unica per conoscere nel dettaglio l'offerta formativa delle scuole del territorio. Infatti a seguire ci saranno praticamente delle aule messe a disposizione per le scuole del territorio per presentare nello specifico le diverse offerte formative. Quindi non soltanto l'Ivampiana di Lovere, non soltanto il convitto nazionale di Lovere, non soltanto il liceo e quindi tutte le scuole compreso il liceo dei Ciocelleri di Lovere faranno in quella serata un servizio importante per le famiglie dando loro indicazioni ma anche le scuole del territorio che incontreranno direttamente le famiglie con i loro referenti dell'orientamento e daranno loro informazioni anche tramite la distribuzione di brochure. Quindi è un'occasione unica per tutti i genitori che in questo momento sono impegnati nella scelta insieme ai loro figli. Ricordiamo le coordinate. Il 24 novembre alle 18.30 presso il convitto nazionale Cesare Battisti, la prima parte presso l'auditorium con tutti i genitori e i dirigenti del polo scolastico Lovere e poi a seguire le scuole del territorio con i vari stand. Anche quest'anno come tutti gli anni organizziamo questo incontro con le famiglie per illustrare sia le modalità di iscrizione che avvengono online e sarà il collega Rinaldi e Nico dei Comprensivi e proprio in questa sala illustrerà le modalità facendo vedere proprio l'accesso al sito e come avviene l'iscrizione. Accanto al collega ci sarà il rappresentante della comunità montana, la dottoressa Eliana Franini che dirà ai genitori l'importanza di una buona scelta dell'orientamento. Come sempre i dirigenti dell'Alta Valle, dell'Alto Sebino, si rapportano alle famiglie illustrando le modalità di iscrizione. Proprio in questa storica sede che è unica dalla Lombardia perché è un convitto nazionale ed è una realtà i gioielli di famiglia della scuola italiana con le loro opportunità anche per rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale e danno la possibilità di rimanere qui in un ambiente eccezionale sia dal punto di vista strutturale che educativo. E a Gorno un gruppo di ragazzi che lo scorso anno ha preso parte all'ideazione di un gioco in scatola si sta impegnando nell'organizzare alcune iniziative nelle paese della Val del Riso. La prossima si terrà il 17 novembre in biblioteca. Questa sera sono qui con un gruppo di ragazzi che ha deciso di darsi d'affare e di spendersi per il proprio paese. Un gruppo che è nato l'anno scorso grazie ad un progetto che era un progetto di Fondazione Cariplo, finanziato da Fondazione Cariplo, che ha prodotto un gioco in scatola. Da questo gioco in scatola è nata anche questo gruppo, questa amicizia e da qui abbiamo iniziato a vivere la biblioteca in particolare in modo diverso. Da lì sono nate diversi spunti, diverse iniziative. Devo dire che il gruppo ha davvero voglia di darsi d'affare per il proprio paese, è una cosa molto rara, quindi speriamo che si prosegua anche facendo parte di altri gruppi e associazioni. Per il momento stiamo organizzando già alcune iniziative, tra cui una di queste è proprio l'Escape Room che verrà fatta presso la biblioteca. Il prossimo evento in programma, come è stato anticipato, è l'Escape Room che avverrà nella biblioteca di Gorno. La prima data è disponibile il 17 novembre, a seguirsi tutte le date che verranno richieste. Per poter prenotare ci si può collegare a Facebook oppure Instagram in cui sono stati scritti tutti i contatti disponibili. È una data iniziale e proseguirà fino a gennaio questa Escape Room. Partiamo con la spiegazione di cos'è un Escape Room. Allora, l'Escape Room è principalmente un gioco di squadra, infatti si entrerà dai due ai cinque giocatori all'interno di una stanza. Questa stanza avrà come ambientazione la Prima Guerra Mondiale e vi verrà fatta un'introduzione sullo svolgimento della storia. All'interno della stanza abbiamo giochi di logica, di intuito, matematici che tramite il gioco di squadra dovete riuscire a risolvere per poter appunto scappare dalla stanza. Il tutto va fatto in un'ora di tempo e mi raccomando il gioco di squadra. Allora, questo è Escape Room riguardante appunto la Prima Guerra Mondiale. Ne seguiranno comunque altre, la prima che abbiamo già in mente riguardante appunto il territorio di Gorno e comunque abbiamo in mente tanti progetti e tanti eventi e quindi seguiteci sui social. Una pausa tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. A Crusone nel pomeriggio è iniziata la festa dell'estate di San Martino. Ecco la festa iniziata, c'è già tanta gente ma poi questa sera la festa entrerà proprio nel vivo. Esatto, già c'è un sacco di gente, questo ci fa molto piacere. Verso le ore 20 e 30 inizierà l'esibizione degli artisti, quindi Mirko Sanna e poi dei Morblus, quindi vi aspettiamo numerosi ma prima delle esibizioni mi raccomando che qui la cucina è già aperta, quindi ci sono i nostri taglieri con salumi e formaggi tipici, un buonissimo piatto caldo che ve lo svelo già così vi fa venire appetito, è cinghiale e poi abbiamo dei buonissimi scarpinoce di parre, perciò insomma vi aspettiamo numerosi. E poi c'è anche tanto altro ancora? C'è anche tanto altro, non dimentichiamoci le novità di quest'anno che sono le degustazioni e non gastronomiche e la mostra fotografica con le fotografie dei vari anni della festa, entrambe si svolgono in piazza Sant'Anna ma per tutte le informazioni vi invitiamo a venire qui alla festa dove vi sapremo indirizzare. Vogliamo poi ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato a organizzare la festa, in primis l'amministrazione comunale, nostro sponsor ML e tutti quelli tra cui gli accompagnatori e le visite guidate, tutti quelli che danno una mano e che sono sempre più numerosi. Immancabile la presenza degli alpini? Sì, noi collaboriamo più che volentieri con la banda Bidu, gli diamo una mano per quanto riguarda la cucina e prepariamo come vedete le calda roste, ormai alcuni anni che il nostro gruppo collabora appunto con la banda Bidu e lo facciamo più che volentieri, anche per gli scopi che la stessa banda Bidu si prefigge. Ecco, vediamo che non mancano le calda roste, quest'anno c'è anche il panettone. Eh sì, siamo un po' sorpresi, abbiamo cercato di prepararci una scorta ma non è stata sufficiente visto il buon flusso di persone che si sta verificando. E con le offerte che raccogliete? Beh, diciamo che la sezione quest'anno sull'esempio di altre sezioni, diciamo così, nell'Italia, dell'Italia, ha lanciato questa iniziativa di vendere i prodotti e la sezione di Bergamo utilizzerà questi fondi per la realizzazione di un film sulla grande guerra e per, diciamo, le spese vive che sosterrà per recarsi nelle zone del terremoto dove la sezione di Bergamo si è accollata la realizzazione di un centro polifunzionale, d'accordo con l'Associazione Nazionale, d'accordo anche con gli enti locali. Aperta oggi a Cluson è la mostra allestita in vista della giornata mondiale contro la violenza sulle donne dal titolo Nemmeno con un fiore. La mostra aperta questa mattina sarà visitabile fino al 4 dicembre. Oggi, 11 novembre, si è aperta questa collettiva dedicata alle donne, nemmeno con un fiore, contro la violenza sulle donne. In questa mostra non ci sarà un'inaugurazione perché trovo che non ci sia niente da festeggiare, assolutamente nulla da festeggiare per questa ricorrenza che sarà il 26 novembre, dove tutto il mondo parla delle violenze sulle donne che purtroppo, nonostante si stia vicini a secoli, dovrebbero essere secoli tranquilli e di grande serenità, la violenza persiste e tutti i giorni, accendendo la televisione, la radio, un giornale, vediamo che queste cose così brutte e terribili proseguono. Questa mostra però non vuole essere una mostra violenta, vuole essere una mostra che parla della donna, come madre, come compagna, come figlia, una donna giocosa, una donna felice, una donna che accompagna tutti i giorni, tutti i momenti della giornata, le persone che le sono accanto. Ed è questo il ricordo che la donna vuole lasciare e vuole fare intravedere alle persone che le stanno vicine. Non essendoci un'inaugurazione, però la porta è aperta per tutti, chi vuole venire, se non ci sarà lo spumante, ci sarà una tazza di tè con dei biscotti. La mostra continua e termina il 4 dicembre. Questa collettiva ci sono 12 artisti pittorici che sono gli artisti che presento spesso in galleria. Ecco, c'è l'artista Pizio Tommaso che da qualche anno non si teneva più e che adesso viene ripreso in questo spazio e due artisti scultori come può essere Galliani e Lucchi. Negli artisti pittorici ci sono anche, logicamente, Longaretti, Rognoni, Cremaschi e poi c'è Calvetti, c'è Musante e ci sono artisti come Perutta, Capelli e se non voglio dimenticare nessuno, comunque sono gli artisti che di solito gravitano in galleria come Alfonso Rocchi, che poi ci sarà la personale che si aprirà il 9 dicembre con la presentazione dei dolcetti con arte. E niente, approfitto per fare un saluto e un abbraccio a tutte le donne e che sia sempre una buona giornata. E ora continuiamo con le previsioni del tempo, cura del nostro meteorologo Matteo Accavalla. Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Ci aspettano delle giornate all'insegna del freddo. Infatti sembra proprio che nei prossimi giorni arriverà un anticipo d'inverno. Infatti se vedete dalla grafica, proprio nella giornata di domani, soprattutto in serata, arriverà questo nucleo di aria gelida proveniente direttamente dalla Siberia che raggiungerà il nord Italia e successivamente il centro Italia. Questo nucleo di aria gelida porterà nella serata di domani precipitazioni delle piogge, degli scrosci di pioggia e delle nevicate che si abbasseranno, pensate, fino a circa mille metri di altitudine. Sarà velocissimo questo passaggio. Infatti già nella mattina di lunedì questo peggioramento sarà già sulle regioni centrali e pensate che sull'Appennino nevicherà fino a bassa quota. E noi saremo raggiunti da aria decisamente gelida di estrazione siberiana, con temperature anche sotto lo zero durante la settimana prossima. Vediamo infatti l'evoluzione per la settimana, che vede questo anticiclone ormai spostato verso la Spagna e la Francia. Noi avremo comunque generalmente delle giornate in prevalenza serene o poco nuvolose, al più delle vellature spesse, proprio a partire da lunedì e a metà della settimana prossima. Però farà molto freddo, avremo quest'aria proveniente da est, molto gelida, che porterà la colonina di mercurio anche sotto gli zero gradi, anche a Clusone, con temperature durante il giorno che faticheranno ad andare oltre gli 8-10 gradi. Ma andiamo con ordine e vediamo l'evoluzione della giornata per domani. Una giornata contraddistinta da due momenti. Il primo momento, la mattina, in cui avremo ancora per lo più cieli sereni o poco nuvolosi, ma con un graduale aumento della giornata a partire dalle zone più settentrionali e orientali del nostro territorio, quindi a partire dalla Val di Scalve e dall'Alta Valle Camonica, queste nuvole via via raggiungeranno il nostro territorio aerobico nel corso del pomeriggio, dove arriveranno anche delle piogge. Abbiamo indicato degli scrosci di pioggia nel pomeriggio sera e delle nevicate. Nevicate inizialmente a 1600-1700 metri di altitudine, ma nella notte, fra domenica e lunedì, qualche spruzzata di neve raggiungerà anche quota 1000-1200 metri di altitudine. Abbiamo indicato anche il vento forte in montagna. Arriveranno questi intensi venti settentrionali che porteranno questa sensazione di freddo notevole oltre i 2000 metri di altitudine. Nel pomeriggio i piovaschi raggiungeranno anche la zona del Lago di Iseo e in serata nottata anche la zona della Medio-Bassa Valle Seriana e Lago di Iseo. Andiamo ora all'evoluzione del tempo per la settimana in Val Seriana. Lunedì ancora avremo delle velature spesse sul nostro territorio, infatti avremo la coda della perturbazione che ci avrà interessato domenica notte. vedete le temperature molto fredde, praticamente da pieno inverno. Due gradi di minima clusone, massime non superiore a 6 gradi, con uno zero termico, pensate a 1200 metri di altitudine. Martedì si riaffaceranno le schiarite sul nostro territorio, ma arriverà l'aria fredda e i geli da da est. Vedete, minima clusone fra meno 2 e meno 3 gradi, quindi con una sensazione di freddo significativa, con gelate estese nella piana di clusone e temperature massime non superiori agli 8 gradi. Mercoledì, giovedì, avremo cielo in prevalenza, sereno, poco nuvoloso sul nostro territorio, con temperature ancora basse al primo mattino, intorno agli 0 gradi, con brinate estese sul nostro territorio. Zero termico a 1800 metri di altitudine, temperature massime in graduale ripresa, vedete, intorno agli 8-10 gradi. Anche giovedì sarà una giornata con bel tempo, con temperature in graduale ripresa, massime a clusone intorno agli 11 gradi. Venerdì ancora bel tempo, in attesa di un possibile peggioramento che potrebbe iniziare a partire dal prossimo fine settimana, infatti avremo un graduale aumento della nuvolosità già a partire dalla giornata di sabato, che potrebbe portarci a una domenica, poi con un significativo peggioramento, e pensate che i nostri modelli matematici vedono anche delle intense nevicate, appunto fra domenica e lunedì prossimo, a quota 1500 metri di altitudine, quindi un buon presagio per l'inverno in arrivo. E per il metodo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2. Una pausa tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antenna 2. Ora continuiamo con la pagina degli auguri. Vladimir, Elena e Roberto, insieme a tutti i parenti, fanno tanti auguri a Laura per il suo compleanno. Auguri a Laura anche da tutta la redazione e dai colleghi di Antenna 2. E ora continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88, alle 20.10, trasmetteremo Ti Regalo Una Favola, a cura di Marilena Stabelini. Alle 20.30 il Rotocalco, alle 21 Mondo Crociera, alle 21.45 Manano Biscum, alle 22.10 Salos TV, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.20 la rubrica Buona Agricoltura, alla mezzanotte e mezza, alla terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale verrà riproposto anche alle ore 21.30 sul canale numero 218, sul quale alle 22.30 trasmetteremo Pianeta Salute. Sul canale sportivo al numero 628, alle 20.30 trasmetteremo la rubrica di sport invernali, Ski Magazine, mentre alle 21.30 la rubrica sportiva Blue Sport. L'Almanacco per domani, domenica 12 novembre, il sole sorge alle 7.11 e tramonta alle 16.57. Il culmine è alle 12.04 minuti, la durata del giorno è di 9 ore e 46 minuti. La luna sorge alla mezzanotte 32 e tramonta alle 14.25. La fase lunare, la luna è calante ed è visibile al 42%. E con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e buona serata. a a a a a Grazie a tutti.